Castel di Sangro e il suo sportello filatelico delle poste. Primo in Alto Sangro, quarto in provincia dell'Aquila e quattordicesimo in Abruzzo. Alla piccola cerimonia di presentazione hanno partecipato tra gli altri il direttore provinciale della filiale dell'Aquila, Daniele Evangelisti, e in rappresentanza della struttura nazionale di filatelia, Roberta Sarrantonio. All'evento è intervenuto anche Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro e presidente della provincia dell'Aquila. Si tratta di uno sportello dedicato presso il quale saranno disponibili prodotti filatelici come francobolli, cartoline, folder, raccolte e altro materiale da collezione. Dopo il successo della scorsa estate con lo stand di poste italiane allestito nel palazzetto dello sport durante il ritiro del Napoli, ha commentato Roberta Sarrantonio, abbiamo voluto aprire una postazione permanente all'interno dell'ufficio postale di Castel di Sangro. Un punto nuovo in questo territorio, pensato non solo per i collezionisti, ma anche per i tanti turisti che frequentano Castel di Sangro e l'Alto Sangro tutto l'anno e per chi desidera avvicinarsi all'affascinante mondo della filatelia. E' un servizio che innalza il prestigio dell'ufficio postale di Castel di Sangro, ha detto il sindaco Angelo Caruso, pertanto rivolgo un sentito grazie a poste italiane per l'iniziativa. Lo sportello filatelico è disponibile secondo i consueti orari dell'ufficio postale da lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle ore 8.20 alle 12.35.